Dispersione scolastica, Vicenza la più virtuosa tra le province del Veneto, stando ai dati del monitoraggio dell'ufficio scolastico regionale. In numero assoluto si tratta di 3.187 studenti vicentini che hanno lasciato i banchi. Vicenza proprio è la provincia più virtuosa per quanto riguarda vari aspetti. Per quanto riguarda l'interruzione di frequenza, abbiamo un'interruzione che si aggira all'1,25%, rispetto al dato regionale dell'1,56%. Rovigo al 2,56%, Belluno l'1,87%, Treviso l'1,78%, Padova l'1,65%, Venezia e Verona l'1,56%. È il biennio delle superiori che si mostra come momento di maggiore difficoltà per la carriera scolastica. Anche per quanto riguarda le non ammissioni all'anno successivo, abbiamo dei dati che si distanziano rispetto agli altri, in quanto i bocciati per quanto riguarda Vicenza sono sul 5,91% rispetto al dato regionale del 6,28%. Infine, due studenti su dieci nel biennio hanno dovuto affrontare gli esami di riparazione. Matematica, la prima tra le materie critiche, a seguire inglese, fisica, italiano e storia. Il successo di questi dati provinciali, secondo il provveditore, è da ravvisare nel confronto continuo tra dirigenti scolastici, docenti e famiglie, impegnati a trovare strategie per supportare gli studenti in difficoltà.